Gentili telespettatori bentornati, è lunedì con il nostro approfondimento di Sportivamente Flash in diretta sul canale 12, la QTV e su tutti i nostri canali social. Come sempre partiamo dalla cronaca e con le ailezze della partita del Campobasso che ha battuto il Chieti in casa per 1-0. Il Campobasso vince con merito e conquista il primo posto in classifica del Girone F, una partita interpretata alla grande dai ragazzi di Mister Pergolizzi che battono 1-0 il Chieti, risultato troppo magro per le tante occasioni create. Il Chieti gioca bene i primi 20 minuti, poi è dominio Campobasso. Il gol del Lupo Rossublu è un capolavoro del centrocampista Grandis alla seconda marcatura stagionale. Il neo acquisto riceve palla dal fondo da Mengani. Grandis si inventa un tiro a giro all'incrocio, imprendibile per il portiere Teatino. Da registrare anche la traversa di Maldonado su calcio di punizione. Il Campobasso vince con merito il big match di Vetta. Per i Lupi adesso la trasferta adriatica in terra molisana, un derby però inaccessibile ai tifosi rosso-blu. A fine gara le parole dei protagonisti del match. Sono venuto qui per esonerare i due e presentare i due nuovi. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Siamo contenti, sono molto felice, entusiasta. L'ho detto prima, la curva nonostante il freddo, la gente nonostante il freddo, è bello che canta, bello che ci incita un po'. I ragazzi sono andati nello spogliere, i ragazzi sono molto contenti. Noi vogliamo fare buone cose qua. Un'ottima prestazione con una squadra che soprattutto nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. ripartiva bene, aveva forza fisica davanti, ma noi abbiamo redigito colpo sul colpo. Direi che abbiamo dato continuità alla prestazione. Siamo stati sempre presenti, abbiamo rischiato poco, se non qualche calcio punizione laterale o all'inizio qualche tiro da fuori aria. Ripeto, sono contento perché questa è una squadra che sta crescendo, ma non abbiamo fatto nulla. Sapevo già della piazza di Campobasso, dei tifosi, però quando mi ci sono trovato a contatto più da vicino sono rimasto veramente sbalordito per il calore di questa piazza. Oggi giocare davanti a questo pubblico è stato bellissimo, era un po' che non mi capitava. La società non ci fa mancare niente, il gruppo di ragazzi è un gruppo stupendo. Me l'ho fatto sentire a casa dal primo minuto, sto qui una settimana, sembra che sono qui da un mese. Non potevo fare scelta migliore, sono veramente contentissimo. di essere qui. Bene, torniamo nei nostri studi, partiamo con le schermate e quindi con i vari risultati. Pregherei alla regia di partire con la Serie D, Ciron F per la giornata numero 16. È successo questo, le gare, Football Club Matese, Real, Monte Rotondo 0-1, Roma City Football Club San Benedettese 0-0, Tivoli Calcio Vasto Girardi 0-0, Alma Juventus Fano Avezzano Calcio 3-1, Atletico Ascoli Notaresco 1-1, Campobasso Chieti 1-0, L'Aquila Calcio Termo di 3-2, Sotacalcio Fossombrone 0-0, Vigo Senigallia United Riccione 2-1, la classifica della Serie D Giron F, guida il Campobasso a 33 lunghezze, San Benedettese 31, L'Aquila 30, Avezzano Calcio 28, Chiedi 27, Vigo Senigallia 26, Roma City Football Club 25, Fossombrone Notaresco 24, Sotacalcio 19, United Riccione 18, Alma Juventus Fano, Vasto Girardi, Real Monterotondo 16, Atletico Ascoli 15, Tipo di Calcio 14, Calcio Termo di Football Club Matese, 13 punti. Passiamo al campionato regionale di eccellenza, le gare in programma, qui siamo giunti alla giornata numero 15, Aurora Alto Casertano, Griternina 5-2, Calcio Virtus Gioiese, Turris rinviata, Campomarino, Ripalimosani 0-0, Boiano, Città, Lisernia, Salleucio 0-2, L'Impiagnonese difesa Grande Termo di 4-2, Real Guglionesi, Atletico San Pietro in Valle 0-0, Venafro Castellisangro, CEP 2-0, Polisportiva Fottore, Sesto Campano Calcio 1-1. La classifica, guida Lisernia, Città, Lisernia 41 punti, Aurora Alto Casertano 40, Castellisangro 26, Venafro 25, Real Guglionesi, Sesto Campano 24, Ripalimosani 22, Polisportiva Fottore 21, Turris 16, Olimpianonese 15, Boiano, Campomarino e Calcio Virtus Gioiese 13, Atletico San Pietro in Valle 12, Difesa Grande Termo di 11, Cliternina 9, Campionato regionale di promozione, la giornata è sempre la numero 15, Serna Fraterna Spinita 1-1, Real Prata Baranello 1-1, Atletico Torremaggiore, Locomodo in Riccio 2-0, Bois Farano, Morcone Calcio 3-0, Fotolumpoli Sportiva M Juvenes 2-1, Calcio Montenero, Altilasagnum 8-0, Polisportiva Calena, Roccaravindolo a 5-2, Trivento Chaminade 3-1, diamo uno sguardo alla classifica, la guida è il Calcio Montenero a 35, Atletico Torremaggiore 32, Bois Farano 31, Aesernia Fraterna e Baranello 31, Trivento 27, Locomodo in Riccio 26, Fotolumpo 25, Spinete 20, Roccaravindolo a 19, Polisportiva M Juvenes 18, Real Prata 17, Chaminade 13, Polisportiva Calena 11, Morcone Calcio 8, Altilasagnum, chiude la classifica a 0 punti, chiudiamo come sempre con la prima categoria, il Girone A, le gare in programma, quelle della tredicesima giornata, Gioventù Macchia Godenese, Domenico Desisto 0-1, San Giovanni Ingaldo Tamaro 2-2, Volturne Calcio a 3-Lic Mignano 2-5, Ala Fidelis Pozzilli 2-1, Carpione Calcio all'Atox Piedra Melare a 2-3, Duffe Presenzano, Duffe Presenzano, Alife 1-1, Mirabello Campobasso Calcio 0-0, Riposato il Sant'Angelo Limosano, chiudiamo con la classifica della prima categoria, Girone A, guida la Liffe a 34, Sant'Angelo Limosano 31, Duffe Presenzano 29, Domenico Desisto 27, Ala Fidelis 25, Atletico Mignano, Pozzilli 20, Ala Fidelis Piedra Melare a 19, Carpione Calcio 17, Mirabello 14, Campobasso 11, San Giovanni Ingaldo, Tammaro 4, Volturni a Calcio, Gioventù Macchia Godenese, chiudono la classifica a 3 punti. Bene, gentili telespettatori, vi ringraziamo per averci seguito nel nostro consiglio di approfondimento sportivo in inizio settimana, come al solito vediamo appuntamento a venerdì con la puntata numero 9 di Sportivamente. Un saluto a tutti da Michele Visco.